E' un dispositivo mobile studiato dall'UISP per diventare un presidio stabile per l'educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva nelle periferie urbane, attraverso il gioco, lo sport e il movimento. Two Moves è stato progettato dallo studio NOA nell'ambito del padiglione Italia Taking Care in occasione della quindicesima biennale di architettura di Venezia. Two Moves è adattabile ad ogni luogo, agganciando elementi che trova intorno, sulla strada, in un parco, li trasforma in spazi d'incontro, luoghi dove il gioco diventa formazione, civiltà, futuro. Prima tappa di Two Moves sarà a Torino, al Parco d'Ora, dove sorgeva uno degli impianti di lavorazione Fiat. Il dispositivo UISP sarà costruito anche grazie al tuo contributo. Partecipa al crowdfunding. Sostieni il progetto su www.periferiainazione.it 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 Grazie a tutti